Veniamo alla visita della ministra dell'interno Luciana Lamorgese a Lampedusa dove ha incontrato il sindaco dell'isola Salvatore Martello. La ministra ha assicurato il massimo impegno sulla questione dei trasferimenti dall'isola considerati gli sbarchi degli ultimi giorni e i limiti di capienza dell'hotspot. Sentiamo. Quello che ho detto è che la situazione per noi è seguita nel senso che so che c'è stato un periodo molto intenso, pieno di arrivi. Quindi certamente la comunità di Lampedusa non deve essere gravata più del dovuto, tant'è che noi stiamo cercando di fare con rapidità i trasferimenti del caso per far sì che l'hotspot sia sempre libero sgombro. Abbiamo raccontato di quello che stiamo facendo a livello di incontri con i paesi di partenza, cercando di trovare delle soluzioni che possano non pesare su questa comunità.